Dopo un lungo volo affacciati al finestrino, Marte è sotto di loro, ben più grande di un puntino. Luna corre in lungo e in largo, è super eccitata. Sono arrivati finalmente! L'esplorazione è cominciata! La lente della fotocamera è ricoperta di polvere. Trascina il dito per pulire la polvere e scatta una foto. Sei forte!